Parlare di oggi è calarsi nell'oggi e l'oggi cambia sempre rapidamente. Io insegnavo qui negli anni 1977-83, quindi 25 anni fa, 24 anni fa, parecchio tempo fa. Tuttavia la sostanza è sempre poi la stessa. Nel mio libro ho cercato di interloquire dal punto di vista della fede e anche della ragione con l'uomo di oggi, con i suoi problemi, sia più pratici, esistenziali, concreti, sia anche di problemi culturali, per esempio il grande spazio che ha preso la conoscenza scientifica. Nel libro ho cercato di dedicare un capitolo per specifico a questo problema. Posso dire che il progetto culturale ha avuto una gestazione faticosa all'inizio, perché c'erano molti equivoci, molti anche diffidenze. Poi pian piano questi sono stemperate e è diventata sempre più diffusa la consapevolezza che la cultura è importante per la fede e che la fede deve farsi presente nella cultura. Secondo quello che già diceva Giovanni Paolo II, una fede che non diventa cultura non è una fede abbastanza pensata e abbastanza vissuta. Poi c'è l'accoglienza da parte del mondo non credente o comunque non troppo vicino alla Chiesa e direi che questa accoglienza in parte è polemica, in parte reattiva, ma in parte anche positiva. Ci sono molte persone ai gruppi sociali, ai gruppi culturali, che si rendono conto dell'importanza grande del cristianesimo per la nostra cultura e per il nostro futuro anche sociale. In questo senso i grandi rivolgimenti questi ultimi anni, anche la perte di centralità dell'Europa e dell'Occidente, sono una sfida, una provocazione, ma anche qualcosa che ci costringe quasi a ricercare la nostra autentica identità. Nell'ottobre dell'84 ho conosciuto personalmente Giovanni Paolo II e ho visto con grande gioia, con grande gioia, la fiducia che lui aveva nel futuro del cristianesimo, quello che allora mancava un po'. E anche adesso è importante tenere forte, tenere viva questa fiducia, perché se perdiamo questo, perdiamo lo slancio missionario. E allora, come dice l'attuale Papa Francesco, la Chiesa si ripiega su se stessa e si ammala.